Fantasia ipnotica ancora, ancora nella collezione Cleofinati Luxury, dove troviamo magia, perché è magia, è colore magia, è disegni antichi che vengono interpretati su queste linee dandy glamour, una fantasia vichy che interseca colori meravigliosi. E qui abbiamo Alessia, Gerry e Stefania, vero Ale? Herzliches Willkommen und unsere Luxury Collection begrüßt euch. Wenn wir an Luxury Collection denken, können wir eine Zusammenfassung von Exzellenz, von Antik Design und Extreme Eleganz haben. In questa ipnotica effeche, in seite 100%, abbiamo una carovici inglese effeche, zusammen con un grun-blau, che è importante per noi e per voi. Hello to everyone, welcome back. Hypnotic Fantasy, that's the same words we used before, it's once again one of our best sellers from our Luxury Collection. So, this time it's blue, black and green colors, I would say. Avevi piedi troppo grandi per questo scarpe. Yeah, but we still have to make you guys see what we've got here. Diciamo che la ricerca Clef Finati è proprio dedicata agli uomini di stile, perché? Perché è una grande ricerca fatta con grandissima passione e che guarda appunto tutti i dettagli. E in questo caso guardiamo la meravigliosa creazione anche che disegna questo panciotto. Per esempio, abbiamo sempre questo disegno di sci, quindi l'antica camiceria maschile, questo piccolo quadratino, che diventa un letto sul quale vengono appoggiati questi disegni pisley, cashmere, l'antico sempre disegno tipicamente maschile, blu e verde e raso verde e blu bellissimo. Un' Atlas Pino in Naturfasio, 100% made in Italia. Und hier abbiamo una Vichy e un'verkreuzione, con cui abbiamo anche un Paisley Motivo gezeichnato. Tutto è... E ricordo come in Italia e ricordo come una prima eccellenza, come come un genno entra l'ancio. Anche a come back in Italia un genno ha fatto, deve ricordare, ricordare a ricordare sui occhi sui con naturalezza. Questo è molto, molto importante. In questo caso abbiamo ancora il vicci coloro. È un blu e nero naturalmente. Potete vedere alcuni dettagli sui bottoni. Potete vedere alcuni dettagli sui vestiti. E qui abbiamo quella colore verde. È il stesso verde che ho qui sui miei pantaloni. È il stesso verde che ho visto sui pantaloni. Perché, appunto, la fibra naturale garantisce questa luminosità garbata e la seta lo testimonia sul nostro corpo e lo enfatizza però con estrema estrema eleganza. Cleofi Finati sono 30 anni che crea nel made in Italy 100% e solo con fibre naturali. Questo ti garantisce anche sull'uso di colori, sull'ecosostenibilità, su tutte queste cose che sono fondamentali oggi, domani e anche ieri. perché per noi è stato da sempre così. Lo che facciamo, è quello che facciamo. Lo che facciamo, è quello che facciamo. È bellissimo Gerry, è bellissimo perché se noi guardiamo, guardiamo, per esempio, anche i bottoni, i bottoni che richiamano il disegno pisley del panciotto, cioè tutti i particolari, anche questi vengono fatti uno ad uno. Cioè, è tanta roba. Possiamo vedere anche la tua schiena, Gerry? Guardate, guardate la magia di questa giacca con questo punto vita molto molto alto e il fatto che disegna il corpo e lo scolpisce con questa linea sempre New Dandy Glamour, affirma Cleofi Finati. La bellezza è anche per il corpo. Le due le 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 sono in questa posizione, sodassi la figura del tutto più alto. ragazzi, non c'è nulla cosa per te dire questa stia è molto bella è bella, è bella è bella, è bella è bella che avevamo anni fa e io diria che in ultimi anni le persone davvero piacciono le nostre creazioni non solo le nostre creazioni ma si chiamano i bestsellers perché la maggior parte dei anni passi quindi nel 2014, 2015 2016 e 2017 quindi ogni anno troviamo più vestiti all'interno nei bestsellers Cleo Fepinati infatti nella linea Luxury crea delle opere d'arte che sono per sempre attuali e anche poi da poter reinventare adesso però togliamo questa giacca un attimo per la Lushery Collection abbiamo Pferdren e tutto e questo è un vero maestro eccoci qua proprio come un prezzo decisamente bellissimo direi assolutamente bellissimo questo gilet è poesia questi papion che sono tutti papion assolutamente veri handmade che noi insegniamo anche ad annodare basta che andate a curiosare i nostri tutorial vero Gerry e Ale vi zeigen euch wie man eine fliege binden soll just go and see some of our tutorials on youtube or pages instagram twitter and you will find something seguiteci perchè insieme a noi portiamo diciamo tanta eccellenza nel mondo siamo molto orgogliosi di questo ed è grazie a persone come te che possiamo farlo e ti aspettiamo quindi sempre con noi vero? quindi volgen sie uns e ci ricca e ci ricca quindi vi faccio che di ci ricca ci ricca ci ricca ci ricca e ci ricca ci ricca e ci ricca ci ricca instagram con noi youtube ciao ciao See you, bye.